Terra Amara Episodi Turchi, Yaman restituisce Adnan sua moglie dopo la morte di Erkument. Tante novità avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara visibili nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato, Made in Turchia, rivelano che Demir Yaman, Muratun Elm, permetterà a sua moglie Zuley Alton, Ilal Altmbilek, di riavere il figlio Adnan in pianta stabile alla villa, appreso della morte di Erkument. Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti i prossimi episodi italiani rivelano che Zuleyna riuscirà a riebracciare il figlio. Tutto inizierà quando Erkument dimostrerà di essere ossessionato da Gulten, Selin Jens. Il cugino di Demir arriverà addirittura ad abusare di lei in riva ad un lago. Fortunatamente le urla della domestica saranno udite da Ilmaz che innescherà con l'aggressore una violenta lite. Se l'ex meccanico verrà ferito ad una spalla, Erkument verrà ucciso, video, con un sasso alla testa. A tal proposito, un carefe che li cercheranno di nascondere il corpo dello stupratore. Mentre Gulten minaccerà di suicidarsi dopo l'abuso subito. Una storyline molto tesa che coinvolgerà persino le nozze tra Zuleyna e Demir. Nelle puntate turche di Terra Amara, Demir permetterà alla moglie di vedere Adnan per qualche ora al giorno. Una situazione non molto facile da gestire da parte di Zuleyna, soprattutto quando il ricco imprenditore comunicherà che il figlio potrà ritornare in pianta stabile alla fattoria solo quando Ilmaz e Muigan saranno diventati marito e mogli e quindi non rappresenteranno più un problema per loro. La nuora di Unkar, a questo punto, deciderà di fuggire se non venisse intercettata dal marito. Pertanto, Althuna accuserà subito una nuova crisi, tanto da venire ricoverata in ospedale per alcuni accertamenti. Qui, la donna avrà modo di poter parlare con Muigan, alla quale chiederà quando ha intenzione di diventare la consorte di Aqqaia. Neanche a dirlo, la dottoressa non capirà il perché della domanda se Demir non fermasse il proseguimento del confronto. Unkar informerà Demir che Erkumenet è deceduto dopo essersi macchiato di stupro nei confronti di Gultena. Per questo motivo, il ricco imprenditore accetterà che Adnan possa ritornare a casa in quanto sicuro che sua moglie non accetterebbe di seguirlo ad Istanbul senza suo figlio in occasione dei funerali del cugino. Una scelta che si rivelerà corretta, visto che la polizia informerà la famiglia Yaman del decesso del loro parente. In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che gli appuntamenti persi della soap opera possono essere rivisti on demand su Mediaset Play Infiniti.